Tu Eppi, per parlare di Tu Eppi si fa presto, bisogna dire che il prodotto è favoloso, si fa fatica forse solo un pochino all'inizio a passare dal classico sistema di pasta elettronica, per noi è stato Outlook, ma fai fatica perché entri in una mentalità diversa, in una mentalità nuova e come tutte le cose serve qualche tempo per addestrarsi. Per il resto è quel classico prodotto che non c'era e che fortunatamente qualcuno ha pensato bene di programmare, di inventare, di mettere sul mercato, lo usiamo da due anni con notevole risparmio di tempo, un aumento conseguente di produttività, risparmiamo carta, meno stampe che girano, incarichi che vengono assegnati puntualmente, e fine anche di qualche scaramuccio ogni tanto tra colleghi, tra personale, perché è un incarico assegnato, lo puoi gestire, lo puoi vedere, lo puoi rimodulare, soprattutto non lo perdi più, inoltre tutto ciò può essere visto da dove vuoi, lo puoi vedere da un cordless, da uno smartphone, lo puoi vedere da qualsiasi device, da un pc, da un tablet, dove ti pare? Sei sempre online, perché tutto il tuo sistema ti segue, ma non ti segue solo la posta elettronica, che sarebbe banale e riduttivo per tu appi, ti segue invece proprio tutta la pratica, ti segue la chat, ti segue la messaggistica, il calendario che è stratosferico nelle sue implementazioni, non potrei dire di più perché parrebbe quasi l'abbia fatto io, in realtà io lo uso, lo uso con grande soddisfazione e spero che venga sviluppato sempre di più.